Ok ragazzi, iniziamo con lo sfatare un mito. Julian Assange non è un giornalista. È un piccolo hacker che inizia la sua carriera con un Commodore 64 e la termina momentaneamente nel 1992 quando viene arrestato per essersi infiltrato nei sistemi informatici di alcune università australiane e nel Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America. Circa dieci anni dopo Assange crea Wikileaks e viene nominato, o si nomina lui da solo se medesimo perché lo staff non è esattamente nutritissimo, editore in capo. Verosimilmente la passione per l'attivismo Assange la eredita da suo padre, John Shipton, che è un personaggetto. Per intenderci vi dico solo che oltre ad essere un militante contro la guerra va anche a farsi un viaggetto in Siria dove ha l'occasione di scambiare due parole anche con Assad, che per chi non lo sapesse è il dittatore che comandicchia da quelle parti e con l'aiuto di zio Vlad ha eliminato un mucchio di persone. Vi dico solo che a confronto Netti è uno dei City Angel, oppure un volontario che serve pasti alla Caritas. E mentre Assad dopo quasi vent'anni continua a dittatoreggiare, Shipton è rientrato in Australia e si è riciclato come Zeta Fan. Sì, insomma, non è che gli piaccia il Mazinga Zeta, semplicemente supporta la Russia e l'operazione militare speciale. Per intenderci tiene dei discorsi per coinvolgere gli australiani e fargli tifare Vladimir Putin. Normalmente si porta presso un microfono e indossa un colbacco. Se poi vi interessa il gossip, sappiate che Shipton si è disinteressato alle sorti del figlio fino a quando questo è diventato famoso. E sì, se ve lo state chiedendo, sostanzialmente Assange è cresciuto con un padre putativo slash patrino. Non a caso porta il cognome del direttore di teatro che ha sposato sua madre. Il padre biologico di Assange è sparito quando aveva poco meno di un anno ed è ricomparso magicamente quando ne aveva più di 25. In ogni caso Assange fonda Wikileaks per sconfiggere il male che imperversa nel mondo e nella fattispecie per costringere i governi, enti governativi ed altre istituzioni a rigare dritti. L'idea di fondo è che tu pubblichi tutto ciò che c'è di marcio e poi questi enti devono darsi una regolata perché diversamente ci penserà l'opinione pubblica a fare giustizia. L'idea di Assange non funziona proprio benissimo, nel senso che ovviamente non riesce a rovesciare un governo cinese. Non riesce, se ben ricorda, a rovesciare neanche un governo tunisino o uno sudamericano. Però il grande pubblico inizia ad appassionarsi e scopre che effettivamente ci sono dei militari cinesi che compiono abusi al danno dei tibetani. Assange riesce a pubblicare questi video. Tutti possono vedere quello che succede e questa è certamente una cosa buona. I problemi iniziano nel 2010, quando Assange viene in possesso di 250.000 comunicazioni dell'ambasciata degli Stati Uniti, che lui aiuta a decodificare e pubblica sul suo sito. Questo evento diventerà noto come Cablegate. È l'aprile 2010 e scoppia un bippino tremendo, sotto tutti i profili. Tutti i documenti pubblicati sono sensibili o addirittura coperti da segreto di Stato. In alcuni casi si tratta di un segreto di Stato scomodo, che serve a coprire qualcosa che l'opinione pubblica non deve conoscere perché diversamente si imbipperebbe a bestia. L'esempio tipico è quello dell'incidente in cui alcuni piloti americani per errore eliminano dei giornalisti e dei civili scambiandoli per terroristi. In altri casi si tratta di comunicazioni scomode, perché comunque il tono è di un certo tipo, oppure ancora si stabilisce quale strategia tenere nei confronti degli alleati, e di botto ci si accorge che in diplomazia non sono tutti bravi, belli e buoni e che qualche pugnalatina diplomatica alle spalle degli alleati qua e là si infligge pure. E poi vengono pubblicati anche documenti che realmente nell'interesse dello Stato e di molte persone dovrebbero restare classificati e segreti. Si pensi per esempio all'elenco degli informatori di cui dispongono gli americani in Afghanistan o dei dissidenti politici che combattono contro i talebani, ovviamente in segreto e sotto copertura. Assange pubblica i loro nomi, cognomi, indirizzi e numeri di telefono senza pietà alcuna. E sì, parlo di pietà in senso letterale, perché diffondere i nominativi degli informatori equivale a far condannare loro e in molti casi anche le loro famiglie a una vita d'inferno oppure a una morte prematura. Di fronte a una situazione del genere, Assange ha risposto sprezzantemente che «Ehi, sono informatori, tradiscono il loro governo, se gli succede qualcosa se lo meritano». Sì, insomma, secondo questa logica anche Assange è un traditore della patria e dovremmo portarlo a Guantanamo. Nel 2010 Assange ritiene che sia venuto il momento di espandere Wikileaks anche nell'est Europa e più precisamente in Russia e Bielorussia. Per queste zone nomina come responsabile un certo Israel Shamir, il quale, ironia della sorte, è apertamente antisemita. E apparentemente non prova neanche a nasconderlo. Quando arriva negli uffici di Wikileaks, alla presenza di un altro volontario, dice esplicitamente «Che materiale avete sugli ebrei?». Il volontario riferisce naturalmente tutto immediatamente ad Assange, ma quest'ultimo non resta particolarmente negativamente impressionato, perché infatti non solo affida Russia e Bielorussia a questo tizio, ma addirittura, quando riusciranno a ottenere le informazioni relative ai dissidenti bielorussi, le pubblicheranno in blocco. Con estrema felicità e soddisfazione, tanto di un certo Lukashenko, quanto di un altro, altrettanto certo e ben più famoso, Vladimir Putin. Ebbene, potete immaginare che cosa Lukashenko abbia fatto a questi dissidenti. Nel 2012, per mera coincidenza, Russia Today affida la conduzione di una trasmissione proprio ad Assange, che fino al momento prima non era certamente noto per scrivere articoli o per svolgere inchieste sul campo, e tanto meno come presentatore televisivo. Apparentemente il suo compito è quello di intervistare, rendere ancora più famose e simpatiche ad Ovest persone il cui cuore batte per la Russia. Alcune delle persone che Assange intervista sono semplicemente controverse, come Noam Chosky, altre sono qualcosa di decisamente più inquietante, come per esempio il capo di Esmola. Nel 2016, in piena campagna elettorale, Assange non si fa scrupoli di ricevere e soprattutto pubblicare le email di Hillary Clinton e soprattutto del suo gruppo che la appoggia per le elezioni. Nel 2016 ricorderete infatti che Hillary ha sfidato Trump, perdendo più o meno malamente. Ebbene, le ragioni di questa sconfitta affondano anche in Wikileaks, perché il GRU, cioè i servizi segreti russi, sono riusciti a bucare i sistemi di quelli che sostenevano la campagna di Hillary Clinton e hanno passato una marea di email, che ovviamente avrebbero dovuto essere riservati in quanto corrispondenza, proprio a Wikileaks e ad Assange. Alcune di queste email, probabilmente ritoccate o falsificate, hanno dato poi origine ad alcune delle leggende metropolitane che sono ancora oggi più diffusi su QAnon. Per esempio c'è il Pizzagate. Ne avete mai sentito parlare? Ebbene, il Deep State, cioè questi ufficialoni di Stato americano, si ritrovano in pizzeria per fare cose brutte, cattive e adrenocromiche a dei bambini che vengono rapiti proprio per essere fatti spaventare prima e poi immagino che vengano anche eliminati. Comunque sia la leggenda per cui il Deep State è composto da tizi che dipendono da sostanze strane, ben più strane di quelle normali, oppure ancora da rettiliani, cannibali e quant'altro volete, beh, nasce anche da lì. E oltretutto risultano un congro numero di contatti fra Assange di persona personalmente e alcuni collaboratori di Trump d'alto bordo. Insomma, se dovessimo vederla in maniera completamente approssimativa, saremmo portati a credere che Assange non sia esattamente neutrale, ma che in realtà sia anche un asset a disposizione dei russi. Infatti pare che nel 2016 Wikileaks abbia ricevuto moltissimo materiale dalla grande madrepatria, ma per qualche misteriosa ragione Assange ha deciso di non utilizzarlo. E ragazzi, vi ricordo che nel 2016 la Russia nei due anni precedenti aveva invaso la Crimea e occupato parte del Donbass sfruttando i cosiddetti omini verdi, ovvero soldati russi senza insegne. Qualcosa mi dice che la pubblicazione di quel materiale avrebbe potuto essere molto molto utile per comprendere come i russi intendessero portare avanti la guerra in Crimea e soprattutto in Ucraina. L'anno successivo Wikileaks pubblica dei dati relativi all'Arabia Saudita. In questo caso non ci sono censure, esattamente come sempre avvenuto fino ad allora, e viene esposto nome, cognome e indirizzo di una persona che ha tendenze omosessuali e vive proprio in un territorio arabo. In pratica, per colpa di questa pubblicazione, il tizio, se ha avuto fortuna, è stato straghettizzato. Se invece l'è marcato male, è finito in carcere o, peggio ancora, non è più tra noi. E di fronte a questa situazione, ancora una volta, Assange non ha battuto ciglio. È un informatore, oppure è la cultura di quel paese. Che ci vuoi fare? Nel 2017, per placare le continue voci secondo le quali Assange in realtà è una risorsa russa, su Wikileaks viene pubblicato qualcosa, scritto fra virgolette, relativo al SORM, cioè al sistema operativo di sorveglianza e indagine che i russi stanno sviluppando per tenere sotto controllo la rete. Il problema sta nel fatto che, a dispetto di tutti i precedenti pacchetti di informazione o disinformazione pubblicati da Wikileaks, qui il materiale è vecchio, è completamente inutile. Non c'è nulla di interessante o che possa essere utilizzato. E mentre Assange si trova bloccato nell'ambasciata dell'Equador, perché, ripeto, ha preferito fuggire lì invece di affrontare un processo in Svezia per violenza bippale, violenza che, è bene ricordarlo, lui non ha commesso e dalla cui accusa è risultato assolto dopo circa 5-6 anni, credo nel 2019, ma che gli è costato un procedimento penale in cui, questa volta sì, è stato considerato responsabile in Gran Bretagna, perché molto banalmente per sfuggire a quel processo ha violato la misura cautelare in essere in Gran Bretagna e quindi, quando poi è uscito dall'ambasciata dell'Equador, o meglio, è stato portato fuori di peso dall'ambasciata dell'Equador, perché è divenuto ospite scomodo dopo, credo, sette anni, il giudice inglese ha detto, guarda, da quel processo in Svezia eri innocente e quindi è come se non fosse successo niente, ma noi ti avevamo messo ai domiciliari e tu sei scappato nell'ambasciata di un'altra nazione, questo è reato e mo' un anno di carcere e te lo fai tutto. Questo è il discorso della grande persecuzione di Assange. Comunque, mentre Assange si trovava ospite dell'ambasciata dell'Equador, è stato uno dei frontman per l'indipendenza della Catalogna. Questo movimento per l'indipendenza della Catalogna, per mera e pura coincidenza, era appoggiato anche dalla grande madrepatria russa. Poi, ripeto, non è detto che Assange sia un agente russo, magari è la Russia che stalkerà Assange, qualunque cosa fa i russi ci vanno dietro. Se così dovesse essere, ah sì, prova a chiedere di ritirarsi dall'Ucraina, che magari chiudiamo una partita aperta abbastanza in fretta. E infine, nel 2017, gli amici di Putin hanno provato a organizzare la fuga di Assange. Naturalmente, Assange avrebbe dovuto ripararsi nella grande madrepatria, all'ombra del Cremlino, e vivere romanticamente in Russia la sua vita. E quando affermo gli amici di Putin, lo intendo in senso letterale, perché in pratica quattro fonti diverse hanno confermato che un uomo d'affari russo si è recato all'ambasciata dell'Equador e ha trattato il possibile trasferimento di Assange. Il trasferimento di Assange sarebbe dovuto avvenire con risorse non private di quest'uomo, ma dello Stato russo. In particolare, Assange avrebbe dovuto essere caricato all'interno di un'automobile diplomatica, quindi un'automobile in uso all'ambasciatore russo, e poi da qui trasferito fino ad un aeroporto, dove sempre con il corpo diplomatico russo, Assange sarebbe potuto tornare, o meglio andare, perché ufficialmente non c'è mai stato e neanche ufficiosamente, a quanto mi risulta, andare nella grande madrepatria, dove poter fare il propagandista, l'hacker o quello che preferisce. Una variante di questo piano prevedeva il trasporto di Assange fino al porto, e poi Assange avrebbero dovuto caricarlo a bordo di una nave, con questa nave poi si sarebbe dovuto raggiungere l'Equador, insomma un giro che la metà basta. Il piano, per non si sa quale motivo, comunque saltò e non se ne fece nulla. Verosimilmente l'ambasciatore dell'Equador rifiutò il supporto russo, anche perché avrebbe potuto scatenare un bel bippino a livello internazionale. Chiudiamo poi con una nota di colore. Qualche giornalista ha chiesto ad Assange, ma per quale motivo pubblichi di tutto tranne che di cose russe? Perché non ti occupi delle violazioni, dei diritti umani e delle irregolarità che avvengono nella grande madrepatria? La risposta di Assange è stata che in Russia c'era già Navalny, ci sono già moltissimi critici che se ne occupano, e quindi non c'è alcun bisogno di Wikileaks. E questa è stata la risposta di Assange mentre Putin iniziava a dare un giro di vite contro i mass media liberi e indipendenti. Il resto della storia già la conoscete e l'ho narrata in altri due video. Tuttavia resta ancora una domanda alla quale rispondere. Molti chiedono, ma avvocato Assange è un hacker o un giornalista? La risposta è che verosimilmente non è assolutamente nessuno dei due, principalmente per motivi etici. In teoria e anche nella pratica i giornalisti hanno una loro deontologia e la stessa regola vale per gli hacker. Non troverete mai un giornalista che espone e brucia allegramente le sue fonti, soprattutto quando queste persone rischiano la vita, non troverete mai un hacker che fa le stesse cose. Un hacker agisce in modo etico, tende a proteggere la vita delle persone. Assange nel corso della sua carriera non l'ha fatto, ha sempre pubblicato tutto ciò che riteneva utile pubblicare, senza mai prendersi la briga di proteggere i dati sensibili di singoli cittadini. Ha esposto informatori che combattevano contro i talebani e ha esposto anche un cittadino o un suddito, perché credo che nell'Arabia l'Emiro sia un monarca, un suddito arabo che aveva un certo orientamento sessuale che avrebbe potuto, anzi certamente, l'avrebbe fatto condannare in sede penale nel caso in cui fosse stato scoperto. Poi, naturalmente, il fatto che Assange non sia un giornalista non vuol dire che non lo rivedremo su Russia Today o su qualche altra testata o mass media. Margarita Simonian, infatti, ha già dato la sua disponibilità per assumerlo e assegnargli la presentazione e la conduzione di una trasmissione sempre con RT. Insomma, il mio parere su Assange è decisamente molto, ma molto critico, al netto del fatto che sia o meno una risorsa dei russi. E voi che cosa ne pensate? Come sempre, fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Se poi vi piacciono i miei video e volete contribuire a rafforzare il canale, sapete quello che potete fare. Potete diventare dei Patreon, potete abbonarvi al canale, oppure, in alternativa, cosa che non vi costa assolutamente nulla, potete lasciare un mi piace grande e grosso, attivare la campanella, iscrivervi e condividere il link sui social, inviandolo e spammandolo a tutti gli amici più cari che si interessano di questi argomenti. Inoltre, se non farete tutto questo, in un futuro alternativo, remoto e decisamente eventuale, potreste ritrovarvi con Julian Assange, garante della privacy. Io vi ho avvisati. Poi fate voi. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.